Compagni di Peterson, stasera il nostro circolo anarchico ha l'onore di ospitare il compagno Enrico Malatesta, evaso dal domicilio fatto di Lampedusa e proveniente da Londra. Questa sera si confronterà con il compagno Giuseppe Ciancapilla. Cedo quindi subito la parola a Enrico. Consentitemi, prima di iniziare, un aggiornamento della situazione politica italiana che sta sempre più degenerando. Alla guida del governo adesso c'è addirittura un generale, Luigi Pelù, che ha presentato in Parlamento, ispirato dal re, tre disegni di legge fortemente restrittivi della libertà personale, di stampa e di associazione. Noi anarchici, in verità, non abbiamo mai goduto appieno di queste libertà. A noi non importa niente della libertà borghesi! Ma un minimo di organizzazione si impone a qualunque gruppo di persone che ha uno scopo comune da raggiungere. Privi di organizzazione, noi anarchici rischiamo di diventare una babele di metodi e principi e dalla disorganizzazione nasce l'individualismo che infligge all'anarchismo più perdite di mille leggi eccezionali. Ma noi anarchici siamo sempre stati nemici di ogni forma di organizzazione perché respingiamo il concetto stesso di autorità. Noi dobbiamo dare l'assalto allo Stato, ma non per prendere il posto dei borghesi, ma per distruggerlo completamente. Noi anarchici dobbiamo obbedire soltanto al nostro impulso. Ma l'impulso non è sempre un buon suggeritore, soprattutto quando è un gesto individuale, solitario, condotto da isolati agitatori, inattentati di singoli. Ormai abbiamo visto che con gli attentati e le bombe non risolviamo niente. fanno solo aumentare la repressione nei nostri confronti e accrescono il nostro isolamento nell'opinione pubblica democratica. L'anarchia non è la bomba. Bravo! Giusto con la testa! Giusto! Bravo, bravo con la testa! Giusto! Sbaglia di grosso chi identifica l'anarchismo col terrorismo. E allora, secondo te, con passannante e acciarito, che hanno sacrificato la loro vita per attentare il re mitraglia, cosa dovremmo fare? Li dovremmo condannare. Te lo dico io l'errore che hanno fatto. Hanno usato il pugnale invece che la pistola! Brava Giancarina! Eccolo, bravo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La forza si sostiene. Il gesto di Bresci, per quanto si voglia giudicare sbagliato, nessuno può negare essere ispirato da intenzioni altruistiche.